Pensate che sarebbe stata difficilissima, forse non me l'aspettavate di riuscire subito? Beh, guarda, chiaramente era la partita più difficile della giornata, credo. Loro hanno ovviamente meritato, noi siamo scesi in campo con una testa che non va bene se ci vuole l'inizio delle partite. Loro sono stati più bravi di noi, poi i rigori, come sappiamo, sono lotteria, è già la 50 volte che ci va male. Complimenti a Pressano, la stagione non è finita, dobbiamo continuare perché abbiamo altri obiettivi. Dobbiamo rilassare la testa e continuare. Marti vince la Supercoppa, poi uscite adesso. Possiamo si è ricostrata la seconda corazzata, il campionato è verissimo. Sì, sì, è il campionato è equilibratissimo. Sarà un bello spettacolo vedere queste semifinali domani di Coppa, che è mica il migliore.